E' un piacere vedervi qui, vedere di nuovo la sala abbastanza piena dopo questi due anni, mezzo, tre, in cui abbiamo dovuto un po' rinunciare a questi incontri. E' un piacere appunto avere di nuovo con noi il professor Luigi Fontana che ha iniziato a collaborare con noi e a alietarci con la sua presenza nel 2019. Attraverso questo incontro, questa serie di incontri, che ormai potremmo chiamare un incontro di incontri, che nasce in Trentino Sviluppo all'interno del progetto Family Owners. Quindi Trentino Sviluppo ha l'intento di cercare di portare tra i suoi dipendenti, collaboratori, ma anche di diffondere tra le famiglie e anche la cittadinanza quelli che sono alcuni valori, soprattutto in termini di benessere, di welfare e di sostenibilità. A partire dal 2019 il gruppo, la famiglia, si è ampliata perché da un'azienda sola siamo diventate cinque aziende. Abbiamo costituito il distretto Family Audit, città della Quercia, all'interno della quale abbiamo anche CTE, Swan Pharma, Abitec e la cooperativa sociale Punto d'Approdo. Quindi cinque realtà, cinque aziende diverse del territorio di Rovereto che si impegnano per portare avanti i progetti di conoscenza, di educazione, di welfare, ma anche e soprattutto di benessere e di inclusione sociale. In questo contesto appunto si inserisce questo incontro, del quale abbiamo oggi ancora l'onore di avere con noi Luigi Fontana. Volevo solo dire in conclusione che l'incontro è registrato e quindi nei prossimi giorni sarà disponibile sul nostro canale YouTube, quello di Trentino Sviluppo, così come sono disponibili gli incontri che abbiamo svolto nel 2019 e nel 2022. Grazie a tutti. Grazie Barbara, grazie al Trentino Sviluppo e a tutti voi. Buon pomeriggio, buonasera. Grazie a tutti. 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 questo. Però oggi non voglio entrare in questo seminario, in questi meccanismi, anche perché alcuni sono estremamente complessi. Questo è un articolo che abbiamo appena pubblicato su una delle più importanti riviste scientifiche al mondo, Nature Review Molecular Cell Biology, che un po' fa il riassunto tecnico di quali sono tutte queste vie di segnale che abbiamo scoperto, cioè abbiamo scoperto che le nostre cellule, che l'invecchiamento non è un processo di usura, è un processo altamente regolato e la nutrizione e l'attività fisica giocano un ruolo fondamentale nel regolare tutte queste vie complesse. Poi pensate che le nostre cellule hanno un sacco di recettori che integrano tutti questi ormoni, tutti questi segnali che circolano nel sangue, nel sangue circolano tutti questi ormoni e ogni cellula con questi recettori fa una sintesi di cosa sta succedendo e si comporta di conseguenza, quindi va a produrre delle proteine o delle molecole, dei metaboliti che vanno a integrare e a sintetizzare quello che sta succedendo. Quindi, ripeto, la scienza sta progredendo in maniera esponenziale, adesso con l'intelligenza artificiale penso che faremo un ulteriore balzo in avanti. Quindi, è possibile secondo me che nei prossimi 10-15 anni, se le persone che saranno ancora sane potranno saltare su questo treno tecnologico che potrebbe portare veramente verso i 120-130 anni, se le persone riescono ad arrivarci in salute, perché è veramente impressionante quello che stiamo scoprendo con metabolomica, proteomica, genomica, DNA methylation, l'intelligenza artificiale che avete visto ultimamente, CharGPT, è spettacolare, insomma, cosa riesce a fare, anche preoccupante, no? Quindi, ho deciso oggi di essere un pochettino più basic, cioè spiegare secondo me quali sono le regole, no? Non soltanto per vivere a lungo, ma per vivere bene, perché vivere a lungo di per sé, insomma, non ha poi tanto senso, secondo me. Quindi, la regola numero uno, secondo me, più che il peso, come ho già detto in altre volte, ha due fattori. Uno è cercare di contenere l'incremento della circonferenza vita il più possibile, perché man mano che invecchiamo, purtroppo, le persone tendono aumentare il girovita, ok? E sappiamo che il grasso addominale, grasso viscerale, purtroppo è una fonte di sostanze non proprio salutare, perché aumenta l'infiammazione cronica, man mano che aumenta la circonferenza vita, aumenta l'infiammazione cronica, si diventa insonoresistenti, quindi aumenta la glicemia, aumenta la pressione arteriosa, aumentano i trigliceridi e il colesterolo, aumentano alcune sostanze che causano tumori, quindi bisogna cercare il più possibile di mantenere la circonferenza vita il più bassa possibile. E questo deve essere assolutamente associato con dell'attività fisica sia aerobica, cardio, che di resistenza regolare, perché man mano che invecchiamo, se perdiamo massa muscolare, siccome specialmente i muscoli gluteo-femorali sono quelli più metabolicamente, più, più, come massa, più importanti, più integrativi, se non manteniamo una buona massa muscolare diventa difficile, col passare degli anni, contenere l'incremento di grasso e soprattutto l'incremento di grasso viscerale. Quindi questa è la regola numero uno e cercare di evitare appunto l'accumulo di grasso, la apple shape, la forma a mela, che tipicamente, una volta era dell'uomo, noi uomini tipicamente man mano che invecchiamo tendiamo a mettere su pancia, le donne invece tipicamente hanno una predisposizione ad accumulare più grasso gluteo-femorale, anche se ultimamente, è una mia osservazione, però penso che sia abbastanza, vedo un sacco di ragazzine, di donne che iniziano a avere la pancia, è difficile capire se è cambiato magari il livello, un'idea chiara non si sa di come, di perché ultimamente c'è questa transizione, se è un discorso di microbiota intestinale o di quelli che dicono interferenti endocrini, no? Perché abbiamo un sacco di sostanze chimiche che continuiamo a ingerire perché ci sono plastiche, sostanze varie in giro che stanno comunque cambiando il bilancio ormonale, specialmente degli ormoni sessuali, perché alcuni di questi interferenti endocrini sono comunque delle sostanze simile estrogeniche, però è sicuramente un qualcosa che sta avvenendo e quello che volevo ricordarvi è che non è necessario essere dei grandi obesi per avere problemi metabolici, se è una persona fondamentalmente, come in questo bellissimo quadro di Klimt, queste due donne hanno lo stesso peso corporeo, lo chiamo BMI, però questa donna anziana ha una ipotrofia muscolare e ha un relativo aumento della circonferenza vita, mentre questa donna giovane ha un ottimo atrofismo muscolare e ha la pancia piatta. Vede, questo studio pubblicato su American Journal of Epidemiology fa vedere che ad ogni livello di, anche nelle persone bra magre con un BMI tra 21 e 23, all'aumentare della circonferenza vita aumenta in maniera lineare il rischio di diabete. Quindi essere magri di per sé significa relativamente poco se uno ha la pancia e ha praticamente un ipotrofismo muscolare. E come ho detto più volte, però ci tengo a ripeterlo, per cui dico, beh, ma cosa posso fare per ridurre questa circonferenza vita? Vedete, in questo studio, che abbiamo fatto negli Stati Uniti parecchi anni fa, abbiamo per un anno chiesto a queste persone, HL, gruppo di controllo, exercise in rosso è attività fisica, a queste persone gli abbiamo prescritto un'attività fisica per aumentare la spesa energetica del 20%, mentre CR significa calor restriction, cioè ridurre l'introito calorico del 20%, e quello che vedete è che abbiamo ottenuto un 8% di riduzione del peso corporeo in un anno, e soprattutto la cosa importante è che si dice sempre che l'attività fisica non causa riduzione del peso, al limite l'attività fisica ci aiuta a mantenere un peso costante, in realtà vedete che in questo studio abbiamo invece dimostrato che l'attività fisica da sola, perché ex senza dieta, è in grado di ridurre il peso corporeo, però per ottenere una riduzione del peso corporeo in questo studio le persone facevano un'attività fisica 6 giorni alla settimana, quindi circa un'ora al giorno, 6 giorni alla settimana, con una frequenza cardiaca moderatamente elevata, cioè non occorre arrivare a frequenze cardiache in cui uno riesce neanche più a parlare, si dice tra un 60 e un 80% della frequenza cardiaca massima, la frequenza cardiaca massima è 220 meno l'età, se uno fa il 70% di quella frequenza lì e si riesce a esercitarsi in quel range, al giorno d'oggi potete comprarvi un Fitbit, un Apple Watch, con cui potete monitorare in effetti se stai lavorando in quella che viene chiamata l'area di fat loss, in cui si brucia grasso. Quando si lavora a frequenze cardiache troppo elevate si brucia glicogeno, si brucia praticamente glucosio, quindi bisogna lavorare a una frequenza cardiaca tra il 60 e l'80% della frequenza cardiaca massima. In questo studio vedete che abbiamo non solo ottenuto una riduzione del peso, ma abbiamo anche ottenuto una riduzione del grasso viscerale, questa è una risonanza magnetica nucleare dell'addome, vedete questa è una persona, un individuo dello studio prima di iniziare l'intervento di gestione calorica o attività fisica e questo è il grasso sottocutaneo, avete questa sostanza bianca è grasso sottocutaneo, mentre tutto questo è grasso viscerale, ok? Questa costanza bianca. E vedete che dopo un anno è stata una riduzione del media del 39% meno grasso viscerale, ok? Addirittura in questa persona che faceva attività fisica che ha perso 16 kg, quindi il 14% del peso iniziale, la riduzione del grasso viscerale è stata del 74% in meno. quindi si può fare, con un anno uno praticamente può arrivare a ridurre di più della metà il grasso viscerale che come vi dicevo è particolarmente deleterio perché produce tutto un insieme di ormoni e di sostanze che sono la base di tantissime altre patologie, delle più frequenti patologie. Un altro concetto importante di cui volevo parlarvi è che normalmente noi medici o comunque persone che si occupano di salute compresi nutrizionisti, ma soprattutto i medici, mandano praticamente i pazienti dal dietologo, dal nutrizionista o loro stessi prescrivono una dieta soltanto quando le persone sono francamente obese, quando sono veramente in franco sovrappeso. Ma in realtà bisognerebbe iniziare molto prima perché il nostro organismo è come se avesse un reostato. Se io mi sposto troppo dal mio peso ideale, inizio a prendere uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto chili, più mi allontano dal mio livello ottimale, più difficile è tornare indietro, più difficile è cambiare questo reostato e portarlo al livello basale. Quindi la regola è, se io prendo un chilo, due chili, a due chili dovrei dire ecco, qui la tendenza non è delle migliori, quindi mi devo immediatamente risettare, aumentando l'attività fisica o poi vi dirò alcuni trick, per cercare di riportare il peso al mio baseline o vicino al mio baseline, prima che mi allontano troppo, che prendo la tangente e poi è difficile portare indietro il peso. Perché, vedete, facciamo un esempio di questa ragazza di 18 anni che è alta un metro e settanta, vent'anni, un metro e settanta, pesa 60 chili. L'indice di masso corporeo di questa persona è di 20,8. Se in cinque anni guadagna 5 chili e più o meno, specialmente in America, si dice che le persone dopo i vent'anni prendono da 0,5 kg o un chilo l'anno, se questa persona guadagna 5 chili il BMI è ancora 22,5, quindi completamente normale. Se ne guadagna altri 5, arriva 24,2, altri 5, 26, altri 10, 29,4. Quindi dal punto di vista medico questa persona è ancora in sovrappeso, in realtà ha praticamente guadagnato 25 chili. E molte persone giovani, adesso c'è un sacco di obesità infantile, questa settimana scorsa ero in Puglia per dei congressi, è pazzesco, in Puglia il 40% dei bambini sono in sovrappeso obesi, il 40%. Qui in Trentino siamo, mi sembra, sull'8%, siamo molto virtuosi, 8-9%, ma il 40% significa quasi la metà, in campagna la metà sono il 50% dei ragazzini sovrappeso obesi. Però diciamo che una persona arriva a 20 anni, come molti, insomma, vanno all'università, per l'università e sono ancora magri. Poi in realtà vediamo che passano gli anni 20, 30, 40, 50 e il peso va su, la circonferenza va su e devono cambiare la taglia dei vestiti. E sappiamo da studi fatti da alcuni miei colleghi, come Frank Hu e Walter Willard Harvard, che ogni 5 kg che prendiamo di peso, guadagniamo di peso, diciamo dal nostro peso ideale intorno ai 20 anni, quando smettiamo di crescere in altezza, ogni 5 kg, vedete, aumenta in maniera lineare il rischio di sviluppare diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, alcune forme di tumore e anche nell'invecchiare più precocemente. Quindi al di là del vostro peso, l'importante è controllare, una domanda che andrebbe fatta ai pazienti è quanto peso hai guadagnato da quando avevi 18 anni, se assumiamo che questa persona era longilinea quando aveva 18 anni. Ok, detto questo passiamo al secondo punto del mio codice, che è quello di muoversi. Il movimento è essenziale. Noi ci siamo evoluti durante migliaia e migliaia di anni con tantissime attività fisiche. Quindi fondamentalmente il nostro organismo è stato disegnato per fare tantissime attività fisiche, perché non c'erano le macchine, non c'erano gli ascensori, non c'erano le scale mobili, non c'era l'acqua potabile in casa, quindi uno doveva andare al pozzo per prendersi l'acqua, doveva andare a prendersi la legna nel bosco per poter accendere il caminetto. Qualsiasi attività richiedeva tantissima attività fisica. E a giorno d'oggi invece ne facciamo spesso poca. E quindi non siamo proprio disegnati per questo tipo di vita sedentaria. E quindi, riassumendo, poi guardiamo velocemente, uno è praticamente di cercare di limitare il più possibile il tempo che passiamo seduti. Quindi cercare di muoversi anche in ufficio, non stare sempre seduti per ore, ore, ore. L'altro è di svolgere idealmente almeno un'ora di attività fisica al giorno e alternare diversi tipi di esercizio, perché non c'è soltanto la corsa o la bicicletta, ma ci sono anche esercizi di aumento della massa muscolare che possono essere fatti in palestra, ma possono essere fatti anche a casa con il proprio corpo o con i pesi o con delle bande elastiche. Quindi non è che per forza uno deve andare in palestra. E poi ci sono esercizi di flessibilità e postura che sono altrettanto importanti. Quindi il discorso è che ogni aumento dell'attività fisica, se siamo completamente sedentari, se iniziamo a muoverci, questo è già un beneficio. Però non è sufficiente, nel senso che il semplice muoversi, camminare lentamente, sicuramente è benefico, ma per poter iniziare a avere degli effetti metabolici dobbiamo aumentare la frequenza cardiaca. Entro quei livelli che vi dicevo, 60-80%, perché è in quel momento che noi chiediamo ai mitocondri, che sono questi organelli che esistono nei nostri muscoli, che sono praticamente come il cilindro, il pistone, che trasformano la benzina, che per noi la benzina sono praticamente... Perché mangiamo? Perché il cibo, i carboidrati, i grassi e le proteine sono la nostra benzina, il nostro diesel, che insieme all'ossigeno praticamente creano l'energia, che tecnicamente nel nostro corpo si chiama ATP, che fanno contrarre i muscoli, ok? Quindi per poter bruciare fondamentalmente questo materiale energetico che è il cibo, abbiamo bisogno di aumentare la frequenza cardiaca e quindi la frequenza respiratoria. Come dicevo, uno è cercare di fare attività fisica, si può anche non fare un'ora intera, ma uno può anche dividerlo 20 minuti, 20 minuti, magari la mattina, la sera, quindi non è che deve per forza fare un'ora di continuo per avere un'edificio, può essere anche spezzettata e soprattutto, come dicevo, bisogna cercare di muoversi. Spesso magari ci si trova in ufficio, uno si siede e magari per 4-5 ore non si stacca dalla sedia. Questo da diversi studi che si stanno emergendo non fa bene, indipendentemente dal fatto che uno fa una sessione di attività fisica, stare fermi per troppe ore aumenta il rischio di diabete, malattie cardiovascolari, di mortalità cardiovascolare, mortalità di cancro, di diabete, indipendentemente dall'attività fisica che uno fa giornalmente e quindi questi sono degli esempi di cose che si possono fare in ufficio o in casa per cercare di spezzare questa sedentarietà prolungata. Quindi, ad esempio, spesso in Australia ci sono un sacco di persone che hanno questi standing desk, invece di stare seduti ci sono queste scrivanie che permettono di lavorare in piedi, uno sta un po' in piedi, un po' seduto. Alcuni miei colleghi addirittura hanno il tapirulano e quindi fondamentalmente magari quando fanno una conference call invece di stare seduti camminano durante la conference call, perlomeno si muovono per un'ora. Ottimamente poi dopo il Covid si usano tutte queste Zoom, conference per ore, 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 seduti. L'altro è quello di cercare di muoversi. Io a volte, invece di fare le sessioni con i miei postdoc seduto, le facciamo in piedi, andiamo a camminare per il campus e quindi ci muoviamo e parliamo mentre ci si muove. Se uno deve andare al bagno, fondamentalmente può farsi magari un paio di rampe di scale prima di tornare in... Io faccio spesa, ho cinque, sei piani, quindi magari scendo fino al basement e poi magari faccio le scale e poi torno all'ufficio. Se devo parlare con un collega, se posso, invece del telefono, vado nel suo ufficio, faccio un paio di rampe e vado a trovarlo. Quindi sono tante piccole cose che dovete pensare, dovete cercare di mettere nella vostra vita quotidiana. E questo, come dicevo, è perché in questa maniera tutto questo grasso diventa, quando lavoriamo tra il 60 e il 80%, materiale di combustione per i mitocondri. La cosa positiva è che questi mitocondri possono essere aumentati in numero man mano che facciamo attività fisica, nel senso che non sono un'entità fissa, non è che noi abbiamo un numero di mitocondri fissi e non possono essere aumentati. I mitocondri, ripeto, è come se fossero i cilindri. Io compro una macchina, due cilindri, quattro cilindri, otto cilindri, più cilindri ho, più potenza, più velocità riesco e naturalmente più benzina consumo. Quindi quello che il mio mentor, John Hollis, scoprì tantissimi anni fa è che bastano dieci giorni di attività fisica per aumentare questi mitocondri, questi enzimi mitocondriali e questo lo si può misurare con un test che si chiama VO2max, cioè se io praticamente prendo una persona, gli metto questa maschera che misura il consumo di ossigeno, la CO2, io posso misurare quanto ossigeno consuma sotto sforzo, ok? E questo è un proxy di quante calorie brucia. Più ossigeno consuma, più calorie brucia e come sappiamo vedete un atleta, questo è un messaggio positivo, rinforzante, perché molti dicono ma io all'inizio faccio fatica, faccio attività fisica, ma non brucio abbastanza, perché devi lasciare tempo al tuo organismo per aumentare il numero di mitocondri e soprattutto aumentare la potenza, l'efficacia di questi mitocondri nel produrre energie e nel bruciare grasso. Vedete un atleta sotto sforzo può bruciare fino a 1100 calorie in un'ora, ok? Perché ha tantissimi mitocondri, ha dei muscoli molto muscolosi e questi mitocondri che sono in numero maggiore bruciano tante calorie. Una persona completamente sedentaria in un'ora brucia soltanto 360 calorie. Quindi il povero a parità di tempo brucia un terzo delle calorie che brucia un atleta. La cosa positiva che vi dicevo è che scusate, è che praticamente basta specialmente l'effetto dell'aumentare la VO2max più potente nelle persone sedentarie. Cioè paradossalmente una persona sedentaria ha un beneficio maggiore di incremento di una persona che è un atleta. Cioè un atleta riesce a aumentare la VO2max di poco, mentre una persona sedentaria in poco tempo riesce a aumentare il numero di mitocondri e l'attività e quindi a bruciare grasso in maniera più efficiente relativamente di un atleta. Quindi insomma il messaggio è positivo. Iniziate perché poi man mano che diventate più fit, più allenati, il tempo che necessita per bruciare le calorie diventa sempre meno. Ok? E non solo questo, uno degli effetti più potenti dell'attività fisica in assoluto è quello di ridurre la glicemia. L'attività fisica ha un effetto importantissimo nel ridurre la glicemia, no? Perché quando noi accumuliamo grasso addominale, quando ci viene la pancetta, quello che succede è che diventiamo insulino resistenti, cioè ci sono degli ormoni prodotti dal grasso viscerale che bloccano l'entrata del glucosio nelle cedule, soprattutto quelle muscolari, si chiama insulino resistenza e il pancreas cerca di controbilanciare questa insulino resistenza ipersecernendo insulina, quindi si chiama iperinsulinemia compensatoria. Il pancreas lavora duramente per cercare di compensare, a un certo punto si sfianca e quando si sfianca la glicemia inizia a salire da 85 milligrammi decilitro che dovrebbe essere una glicemia ottimale inizia a 90, 95, 100. Adesso abbiamo appena un lavoro pubblicato che stiamo sottomettendo in cui ci fa vedere che normalmente state al vostro medico, vi misura la glicemia, se la glicemia è inferiore a 100 dice ok, tu sei normale, se è superiore al 100 inizia a avere un po' di problemi, se è superiore a 126 hai il diabete di tipo secondo, di tipo secondo. In realtà quello che stiamo vedendo è che anche persone che hanno una glicemia di 90-95 sono già a rischio di diabete, hanno un rischio a 5 anni di diabete che è di 2-3 volte superiore a una persona che ha una glicemia inferiore a 85. Quindi questo costante aumento della glicemia man mano che passano gli anni anche nei valori normali è un indice che c'è questo insinuo resistenza e che sta praticamente mettendo a prova il pancreas e tanti altri organi. E vedete in questo studio che abbiamo fatto e altri studi di altri colleghi l'attività fisica 12 mesi di attività fisica in verde è la glicemia dopo un carico di glucosa quando vado al medico vi fa bere questa bevanda a zuccherate poi misura la glicemia a 0 1 ora 2 ore praticamente vedete che la glicemia in giallo dopo un anno di attività fisica si è ridotta drasticamente come si è ridotta drasticamente i livelli di insulina e questo è importante perché abbiamo dimostrato in diversi studi compreso questo qua su Science che avere dei livelli elevati di insulina è un fattore pro invecchiamento e pro cancro cioè questa iperinsulmia compensatoria attiva queste vie di segnale che promuovono cancro e invecchiamento e quindi bisogna cercare appunto di tenere l'insulina il più bassa possibile con la dieta e con l'attività fisica a parte l'attività fisica aerobica è importante anche quella di resistenza cioè fare un po' di pesistica perché man mano che invecchiamo come ho detto perdiamo massa muscolare lì è da discutere se questo sia vero o non è vero o perlomeno sì c'è una riduzione della massa muscolare però quello che abbiamo visto come esempio gli animali in restrizione calorica hanno una perdita di massa muscolare che è molto minore cioè la slope di decline della massa muscolare è molto minore degli animali che fanno restrizione calorica rispetto a quelli che mangiano una dieta non sana perché si accumula danno molecolare quindi il muscolo diventa più vecchio e l'infiammazione causa questa sarcopenia tanto è vero che se un paziente ha il tumore una delle patologie più importanti è quella che viene cacchessia neoplastica cioè ci sono delle sostanze prodotte dal tumore che causano questa infiammazione cronica e queste persone perdono un sacco di massa muscolare che è legata appunto a questi pregiosti di invecchiamento detto questo comunque è importante fare attività fisica non soltanto cardio ma anche resistenza per preservare il più possibile la massa muscolare e la massa ossea perché ricordatevi che i muscoli sono praticamente fissati alle ossa con dei tendini e quando il muscolo si contrae questo impone una forza enorme sull'osso che ha un effetto trofico se una persona va nello spazio un astronauta perde un sacco di massa muscolare se rimanete a letto per un mese perdete un sacco di massa muscolare e massa ossea quindi è importante fare questa attività fisica per mantenere per aiutare a prevenire le osteoporosi e la perdita di massa muscolare per non diventare poi l'attività fisica di resistenza ha anche un effetto nell'aumentare il metabolismo basale dopo l'esercizio c'è un effetto post exercise si dice nell'aumentare il metabolismo basale quindi si continua a bruciare grasso anche dopo la fine dell'attività fisica e poi è importante anche la postura molti lo dimenticano spesso in medicina non diamo attenzione però voglio dire una cattiva postura nel corso degli anni causa dei problemi gravi di dolori cervicalgie dolori alla schiena problemi articolari alle ginocchia se uno non ha una buona postura fondamentalmente ha tutto un insieme di problemi anche respiratori se una persona fondamentalmente si incurva perché non ha una buona postura non può respirare bene non può usare una respirazione diaframmatica ma usa una respirazione molto superficiale quindi ci sono un sacco di problemi a cascata e alcune di queste patologie questi mal di schiena cronici sono super costosi non mi ricordo negli Stati Uniti hanno un impatto sul sanitario finanziario enorme perché poi diventano debilitanti se uno ha un mal di schiena cronico una cervicologia cronica dei dolori diventa veramente limitante tant'è vero che molti miei pazienti magari uno a 50 anni dicono io vorrei perdere peso però ormai c'è un'artrosi che non riesco più a camminare c'è un mal di schiena c'è questo c'è quest'altro quindi l'attività fisica diventa poi qualcosa che non lo puoi più prescrivere perché il paziente è talmente malmesso dal punto di vista articolare che hai perso uno strumento importante che non può essere più utilizzato perché tanti anni di cattiva postura gli ha alterato in maniera quasi permanente la funzione di alcune articolazioni importantissimo per tutti i tipi di attività fisica è rafforzare il core tutti questi esercizi della schiena dell'addome sono importantissimi che uno faccia corsa che uno faccia bicicletta che faccia nuoto avere un core porte è importante quindi al di là di fare i bicipiti che tutti fanno i dorsali i pettorali i primi muscoli che devono essere allenati e rinforzati sono questi centrali che sono stabilizzanti e importanti anche per camminare man mano che invecchiamo se non abbiamo un core forte dopo che camminiamo magari per un'ora a un museo c'è un mal di schiena terribile perché c'è un core debole quindi tutta la struttura non sopporta bene e l'altra cosa importantissima è quello fondamentalmente mi raccomando se siete sedentari prima di iniziare a fare attività fisica intensa fatevi vedere da un bravo medico perché ci potrebbero essere dei problemi cardiaci di aritmia o magari un'alterazione delle placche delle coronarie oppure un'alterazione delle articolazioni uno inizia a fare attività fisica in maniera eccessiva con delle articolazioni disallineate gli viene una tendinite e poi smette di fare attività fisica per mesi 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 quindi è meglio fare un check up farsi seguire sapere qual è il proprio stato fare magari delle visite con un fisioterapista che ti dà gli esercizi giusti per riallineare le articolazioni poi può uno iniziare a costruire un programma di attività fisica l'altro concetto importantissimo che molti pensano che l'attività fisica cioè è un sostituto di una buona dieta cioè io faccio otto ore di corsa al giorno e quindi poi posso mangiare e bere quello che voglio no gli studi sono chiari fondamentalmente che quello che introduci va naturalmente a formare la qualità delle cellule delle proteine di tutto e quindi la struttura del tuo organismo dipende da quello che consumi l'attività fisica è importante ma non è un sostituto come molti pensano allora il punto numero tre di queste linee guida sono praticamente appunto consumare una dieta sana una dieta che sia ricca prevalentemente di prodotti di origine vegetale abbiamo una dieta che è troppo spostata verso il cibo animale troppo troppo nella dieta mediterranea vabbè poi andremo avanti con questi nella dieta mediterranea classica la carne veniva consumata una volta a settimana al giorno d'oggi molte persone consumano carne probabilmente una o due volte al giorno sotto forma magari di panino con affettati e la sera magari la fettina al pollo questo è eccessivo queste qua sono le linee guida che sono uscite nel 2021 dell'American Heart Association cioè praticamente la principale organizzazione dei cardiologi americani quindi voglio dire non sono cose che dico io anche se sono in linea con quello che studiamo velocemente due punti di queste linee che volevo sottolineare soltanto dieci anni fa guardate il punto il punto quattro il punto uno l'abbiamo già detto il punto due è ovvio mangiare tante frutta verdura e mangiare una grande varietà il punto tre è consumare grani integrali e non farine raffinate poi ne parliamo velocemente il perché ma il punto quattro è quello più rivoluzionario scegliete una fonte sana di proteine molte persone pensano che soltanto i prodotti di origine animale contengono proteine no mangio la proteina quindi mangio la proteina significa che mangio o pesce o carne o formaggi o uova ok cosa dicono le linee guida che le proteine devono essere mostly cioè principalmente di origine vegetale quando ho letto queste linee guida dico no è possibile soltanto dieci anni fa era impensabile che l'American Heart Association scrivesse una roba del genere principalmente proteine di origine vegetale quindi legumi cerentegrali e frutta secca questa deve essere la fonte primaria di proteine ok e poi dice pesce e frutti di mare latticini a basso contenuto di grasso quindi low fat o fat free e dice se se non dovete mangiare carne se volete mangiare la carne if volete mangiare la carne o il pollo cercate di mangiare della carne magra cioè senza il grasso perché quella lì è ricca di grassi aterogeni vabbè velocemente andiamo attraverso alcuni di questi punti naturalmente non c'ho molto tempo quindi è chiaro che è uno soltanto dei flash questa praticamente dicevo la dieta mediterranea che è un esempio chiaramente nel mondo scientifico c'è un accordo unanime che la dieta mediterranea è una dieta molto sana ormai un sacco di organizzazioni scientifiche la riconoscono come una dieta sana però voglio dire per esempio la dieta di Okinawa dei centenari non ha niente a che vedere con la dieta mediterranea eppure è ugualmente sana quindi insomma non è che per forza uno deve mangiare la dieta mediterranea noi siamo in Italia quindi per noi è più semplice per un giapponese mangiare la dieta mediterranea probabilmente non è più semplice non è molto semplice ma sono i componenti della dieta che la rendono sana non tanto se è mediterranea o di Okinawa giapponese come vi dicevo il grasso animale quindi la panna il burro il grasso bianco della carne è ricco di acidi grassi saturi e i grassi saturi sono praticamente una fonte importante di substrato per aumentare il colesterolo voi sapete che quando vai dal medico e il colesterolo dice hai il colesterolo alto vi dà una statina o questi nuovi farmaci per abbassare il colesterolo perché il colesterolo aumenta il rischio di infarto del miocardio di ictus e di altre patologie patologia sconosciuta quando Ansel Keys arrivò nel 54 a Napoli l'infarto del miocardio non esisteva al Cardarelli non c'era nessun infarto del miocardio perché la gente aveva una dieta completamente diversa mangiava una vera dieta mediterranea ok e parte del problema non solo era questo praticamente i grassi saturi della carne e dei latticini e delle uova l'altra cosa che stiamo scoprendo è praticamente che al di là dei grassi un eccessivo consumo di proteine di origine animale che sono ricchi di aminoacidi ramificati di aminoacidi solforati aumenta il rischio di diabete e obesità ormai gli studi stanno sempre rendendo sempre più evidenti che un eccessivo introito proteico di origine animale aumenta il rischio di diabete e obesità attraverso meccanismi che adesso non ho il tempo di entrare nel taglio altrimenti dobbiamo stare qui tre o quattro ore e questo è perché fondamentalmente in parte è anche attraverso il microbiota intestinale perché il nostro intestino voi sapete abbiamo trilioni di batteri che vivono nel nostro intestino e questi non è che sono degli attori passivi sono degli agenti che in base a quello che consumiamo noi selezioniamo alcuni batteri o da altri batteri quindi se io mangio una dieta rica di fibre come in questo studio che abbiamo pubblicato su Science quello che abbiamo visto è che gli erbivori in questo studio questi animali erbivori dello zoo di St. Louis avevano una preponderanza di batteri che praticamente sintetizzavano le proteine mentre i carnivori avevano una prevalenza di batteri che spacchettavano che dividevano le proteine quindi in base a quello che mangiamo fondamentalmente selezioniamo alcuni batteri che poi producono dei metaboliti che hanno un effetto importante sulla nostra salute di nuovo non ho il tempo di entrare e spiegarvi quali metaboliti quali cibi magari toccheremo alcuni di questi argomenti velocemente l'altra cosa importante appunto come vi ricordate vi dicevo che la dieta è cambiata tantissimo perché una volta nella dieta mediterranea si consumavano cereali integrali e legumi cioè al giorno d'oggi invece il pane è super bianco perché la farina è 0000 la pasta è super bianca tutto è super bianco tutto è super raffinato c'è un motivo voi sapete qual è il motivo per cui si usano le farine 0000 eh? la conservazione no? soprattutto il problema è il germe no? il germe questo qui è un chicco di grano può essere un chicco di riso un chicco di avena qualsiasi cereale vedete c'è una componente che è la componente del quello che viene chiamato starch l'endosperma che sono puri carboidrati poi c'è la crusca che è formata da diversi strati di cellette che contengono un sacco di fattori antiossidanti che proteggono il chicco dall'ossidazione infatti fin tanto che c'è il chicco i grassi contenuti nel germe questo qui è il germe da cui praticamente poi c'è il germoglio da cui nasce la piantina questi grassi polinsaturi sono come quelli del pesce se noi spacchiamo il chicco vengono ossidati ed è per quello che dobbiamo fare le farine 0000 perché se noi prendiamo una farina e la lasciamo lì a temperatura ambiente per qualche settimana si ossida diventa rancida il mio amico che è il padrone della De Cecco mi diceva che sono da tantissimi anni da decine e decine di anni che loro degerminano il grano per fare la pasta perché altrimenti venderebbero una pasta che diventa rancida dopo un mese sullo scaffale diventa immangiabile però se tu ti fai la farina fatta in casa noi abbiamo un mulino tu hai il chicco ti fai la farina fresca non è rancida e quindi hai un pane una pasta quello che è che è fantastica perché contiene non soltanto il carboidrato ma contiene la fibra e contiene il germe che è ricco vedete di vitamina E vi faccio velociamente vedere questo qua praticamente è una tabella che fa vedere la composizione di un chicco di una farina fatta con tutto il chicco è una farina raffinata guardate la fibra è 13% in quella totale e di 3% in quella raffinata ma non solo guardate il zinco 29,8 il ferro 35,13 il selenio che è un potente antiossidante 0,06 microgrammi grammo 0,02 la vitamina B6 7,5 milligrammi grammo 1,4 l'acido folico 0,57 0,11 l'acido ferulico che è un potente antiossidante 5,0,4 praticamente tu qui hai un prodotto che non ha pochissimi nutrienti e pochissima fibra quindi è praticamente come mangiarsi più o meno zucchero di zucchero bianco più o meno e vi ricordo che soprattutto fate metterla indietro vedete fibra ripeto 13% rispetto 3% ok la fibra è importante per tanti motivi ma uno dei più importanti che abbiamo scoperto è che questa fibra vegetale viene digerita dai batteri intestinali e produce dei metaboliti che si chiamano propionato e butirrato che si legano a dei recettori che abbiamo studiato che si chiamano G-capal receptor sulle nostre cellule intestinali e sulle cellule immunitarie dell'intestino e praticamente inibiscono l'infiammazione e inibiscono le malattie autoimmunitarie cioè stiamo scoprendo che l'aumento importante di sclerosi multiplica diabete tipo primo Crohn reticolite ulcerosa malattie allergiche è in parte legato al fatto che abbiamo drasticamente ridotto il consumo di fibre e attraverso il biota intestinale andiamo a modificare la concentrazione di questi metaboliti che sono importanti per ridurre l'infiammazione e per ridurre l'autoimmunità modificando il sistema immunitario per dirvi la complessità e la bellezza di cosa uno pensa che io mangio fumo una sigaretta e cronicamente l'esposizione ai carcinologi della sigaretta mi causano poi malattie cardiovascolari tumore al pone ma anche quello che facciamo regolarmente in base a quello che introduciamo ha un effetto cronico su tanti sistemi compreso quello immunitario andiamo un po' veloci perché siamo un po' già in ritardo vabbè a parte questo i cibi regolarizzati sono ricchi di steroli gli steroli sono praticamente degli antagonisti del colesterolo e quindi riducono l'assolvimento di colesterolo che è un fattore di rischio cardiovascolare il pesce è ricchissimo di acidi grassi polinsaturi come l'omega 3 che hanno un effetto antitrombotico abbassano la pressione riducono il rischio di aritmia abbassano i trigliceridi e soprattutto per i vegani i mitili tipo le cozze le vongole sono ricchissime di vitamina B12 voi sapete che i prodotti di origine animale non hanno vitamina B12 quindi se una persona è un vegano stretto deve assumere un supplemento di vitamina B12 altrimenti va incontro ad anemia e neuropatia e poi tutti questi cibi sono ricchissimi di antiossidanti vitamine di diverso tipo che altrimenti non assumiamo con la dieta fatemi andare un po' veloce che sono un pochettino solo questo volevo dirvi che l'olio d'oliva è un alimento sano ok l'olio extravergine di oliva è un ottimo alimento però è ipercalorico ricordatevi che un cucchiaio d'olio d'oliva contiene 120 calorie quindi una volta quando le persone lavoravano un sacco nei campi avevano bisogno di questo eccesso calorico per poter andare avanti ma se una persona è completamente sedentaria e si consuma 5 cucchiai di oliva questa persona si fa circa 600 calorie in più di quello che mangia con il cibo quindi è chiaro che è facile ingrassare quindi attenzione ottimo alimento ma non potete abusarne usandolo in maniera troppo allegra su ogni tipo di cibo allora velocemente se siamo in sovrappeso cosa fare allora regolare il numero uno facciamo questa cosa qui smettere di mangiare prima di essere sazi se uno va in un ristorante gourmet in un ristorante stellato non avrai mai queste porzioni megagalattiche hai una porzioncina quindi a casa dovete fare un pochettino la stessa cosa uno si fa una piccola porzione ne mangia una un'altra piccola porzione ne mangia due un'altra piccola porzione ne mangia tre e poi si ferma quando è appieno all'80% non si fa un piatto megagalattico di 200 grammi di pasta e poi lo mangia fino all'ultimo perché vuole pulire il piatto perché poi naturalmente questo porta a un eccesso calorico quindi usate questo trucchetto di fermarvi prima facendo delle piccole porzioni l'altro è quello di praticamente volendo di poter fare un digiuno intermettente ok in questo studio che abbiamo fatto le persone mangiavano potevano digiunare due giorni a settimana non consecutivi solo vegetali il trucco è che potevano mangiare per pranzo e cena verdure non patate tutti i tipi di verdure cotte e crude a volontà conditi con due cucchiai di oliva al giorno quindi uno per pasto limone aceto quello che vi piace spezie anche dei legumi potete usare e in questa maniera in questo studio le persone hanno perso in sei mesi hanno perso parecchio peso in media in questo studio hanno perso l'8% del peso corporeo il 16% del grasso viscerale in soli sei mesi ahimè i risultati di questo studio che abbiamo appena pubblicato ci dicono che malgrado queste persone abbiano peso peso e grasso viscerale l'infiammazione non si è modificata la glicemia l'insulina pochissimo questo in linea con altri studi che io ed altri stiamo facendo che suggeriscono che una caloria non è una caloria nel senso che queste persone in America che studiavo per 5 giorni a settimana mangiavano la loro tipica dieta americana e poi per 2 giorni a settimana facevano il digiuno quindi l'idea è ok 5 giorni a settimana faccio quello che voglio 2 giorni faccio un po' di sacrificio quello che sta emergendo è che quello che mangiamo durante i giorni di non digiuno influenzano la risposta metabolica quindi sì perdiamo peso perdiamo grasso ma metabolicamente siamo ancora non sani quindi è importante modificare non c'è una una scorciatoia è importante modificare la qualità della dieta nei giorni di non digiuno perché questo modifica il microtestinale e tante altre cose un'altra cosa che si può fare è quella un altro trucco a chi piace è quello di ridurre la finestra temporale in cui si mangia il cibo quindi fondamentalmente invece di mangiare dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 10 e mezza alle 11 dal grande alla televisione col cioccolatino i biscottini questo quest'altro cercare di mangiare tutto entro 8 ore che ha comunque un perlomeno dal punto di vista storico sia i buddhisti che anche i nostri nonni dicevano colazione da re pranzo da principe cena da povero quindi una cena leggera fatta con vegetali una minestra di legumi di genere però anche nella tradizione buddista i monaci buddhisti devono consumare tutto entro praticamente una finestra dal mattino a mezzogiorno poi basta devono smettere di mangiare quindi ci sono delle evidenze che sono diciamo anedotiche che supportano la ricerca fatta da alcuni colleghi che dimostrano appunto che ridurre la finestra temporale riduce l'infiammazione l'insuloresistenza via dicendo nei topolini anche se nell'uomo i dati sono ancora da dimostrare il concetto è un po' di fame fa bene un po' non essere affamato però l'idea che avere un po' di fame fa bene lo dimostra il fatto che la fame è dovuta a un ormone che si chiama grelina che viene prodotto dallo stomaco e questo ormone praticamente quando lo iniettiamo in un modello animale ci riduce l'infiammazione praticamente spegne l'infiammazione ma la regola più importante in assoluto è quello di sostituire le calorie vuote con vero cibo con cibo tipo dieta mediterranea in questo studio che abbiamo fatto abbiamo sostituito praticamente la loro tipica dieta americana con una dieta mediterranea per due mesi e quello che abbiamo visto è che abbiamo dovuto dare un eccesso di 250 calorie al giorno per mantenere il peso costante cioè una persona che consumava da una dieta americana una dieta tipica mediterranea ricca di fibre questo di per sé era in grado di causare un deficit calorico di 250 calorie e per mantenere il peso costante ho dovuto chiedere alla mia dietista di chiedere alle persone di mangiare 250 calorie in più al giorno per mantenere il peso costante quindi se mettere insieme tutti questi tutti questi trucchi insieme all'attività fisica è impossibile non mantenere un peso costante o perdere peso infatti in uno studio che stiamo facendo adesso in Australia a Sydney combinando dieta attività fisica stiamo ottenendo dei risultati spettacolari persone perdono il 10% o 12% del peso corporeo in sei mesi quindi a dimostrazione che funziona velocemente passiamo al punto 5 che siamo in forte ritardo consumi alcolici le nuove linee guida dicono che gli alcolici devono essere usati ogni tanto non fanno bene non fanno bene le linee guida appunto di quelle dell'American Arts Association dicono se non bevete non iniziate e se bevete cercate di limitare il consumo ci sono due motivi uno che spesso poche persone non considerano è che una birra regolare 355 ml ha 153 calorie una birra artigianale di questa doppio malto sono dalle 170 alle 350 calorie un bicchiere di vino rosso sono 165 calorie un whisky 45 ml 116 una pinacolada sono 500 calorie quindi se uno si beve due birre e un bicchiere di vino sono già praticamente 500 calorie on top di tutto il resto quindi aumentare l'introito calorico bevendo è facilissimo al di là del fatto che gli alcolici naturalmente sono ricchi di etanolo e l'etanolo viene trasformato in acetaldeide che è un potente cancerogeno ed è questo il motivo per cui tutti gli studi scientifici ci dicono che non esiste una dose minima di alcol che è safe che è sicura a qualsiasi dose di alcol c'è un aumento del rischio piccolo ma c'è un aumento del rischio mentre per le malattie carovascolari sembrerebbe che per l'infarto con la piccola dose c'è un effetto protettivo ma per la fibrillazione atriale e per lo scompenso cardiaco non c'è un effetto protettivo quindi riassumendo se volete bervi una birra ogni tanto un bicchiere di vino una sera a cena con gli amici ok ma che voi tutti i giorni stappate come nei film appena vai a casa stappi la bottiglia di rosso e dici il calice qua il calice su il calice giù come ormai diventa io guardo i film quando viaggio in aereo e tutti che stappano 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 il vino è safe resveratrolo fa bene salute non è vero la ricerca scientifica ci dice che non è vero ok per diversi motivi che ho cercato quindi velocemente e queste sono le nuove linee guida della World Health Federation che dicono che anche per le malattie cardiovascolari nessuna quantità di alcol è sicura per il cuore fumare lo sapete fa male quindi non perdo neanche tempo e anche le sigarette elettroniche ci sono studi che stanno emergendo che fanno male quindi non è un sostituto safe e fanno male anche a piccole quantità questo qua è uno studio pubblicato sul BMJ che è una rivista molto importante anche una singola sigaretta al giorno si associa a un rischio di infarto di ictus che è circa la metà di una persona che fuma 20 sigarette al giorno l'esposizione l'esposizione al sole a piccole quantità di sole fa bene per diversi motivi piccole però cioè giusto uno dovrebbe esporsi per avere una dose eritematosa cioè avere un po' la pelle un pochettino rosa non scottarsi scottarsi fa molto male ok? fa aumentare il rischio di cancro alla pelle di cancro di melanoma però un piccolo per due motivi uno che è una fonte di vitamina D importante la vitamina D è un ormone importantissimo per la prevenzione dell'osteoporosi e ci sono degli studi randomizzati adesso molto ben fatti che riduce il rischio di malattie autoimmunitarie del 20% un grosso studio americano randomizzato 20% in meno di malattie autoimmunitarie con la terapia sostitutiva un integratore di vitamina D e anche riduce il rischio di tumori terminali di metastasi sempre in questo studio quindi insomma mantenere dei livelli adeguati di vitamina D è importante naturalmente in Australia dove vivo io posso espormi al sole tutto l'anno qui naturalmente l'inverno da ottobre a aprile uno deve prendere un supplemento perché la faccia e le mani non è sufficiente per generare abbastanza vitamina D e non usate i lettini abbronzanti perché quelli chiaramente fanno aumentare il rischio di tumori sonno è importante sempre più studi dimostrano che è importantissimo dormire almeno sette ore poi ogni persona è diversa però insomma sotto le sette sei sette ore inizia a essere carenza di sonno adesso ripeto non ho tempo di andare nei dettagli ma si vede che chi dorme poco ha un rischio maggiore di obesità perché chi non dorme bene ha dei livelli più bassi di leptina e più alti di grelina quindi ha più fame e mangia di più e ingrassa di più e studi fatti pubblicati su Science dal direttore precedente del dipartimento di neurologia della Washington University David Holtzman dimostrano praticamente che se non si dorme bene se si ha una carenza di sonno o un sonno fragmentato si deposita beta-amiloide nel cervello cioè praticamente si sviluppa demenza è un fattore che contribuisce allo sviluppo di demenza dormire bene inoltre ha un effetto protettivo nel consolidare la memoria quando dormiamo bene tutte le nostre sinapsi si riarrangiano e consolidiamo trasferiamo quello che abbiamo imparato durante il giorno dalla memoria RAM all'hard disk e si consolida quindi per i nostri ragazzini è importante dormire purtroppo sempre di più sapete che passano fino a mezzanotte alle 1 di fronte agli iPhone e l'iPad e poi gli passa il sonno perché la luce blu comunque ha un effetto nel fare disruption del sonno e quindi anche lì ci devono essere delle regole per regolarizzare il sonno perché sta diventando un'epidemia di insonnia o comunque cattivo sonno in tante persone passiamo velocemente siete stufi ci fermiamo o possiamo finire un attimino veloci allora perché queste qua sono le parti secondo me più importanti perché fino al giorno d'oggi la medicina occidentale in genere si è principalmente focalizzata sulle malattie cioè noi andiamo dal medico tipicamente quando abbiamo un sintomo se io ho dolore al petto ho sangue nelle feci ho un nodulo al seno vado al dottore e dico dottore cos'è sta cosa che mi dice allora noi da bravi medici facciamo la diagnosi e cerchiamo di curare le persone con piccamente purtroppo nella nostra medicina occidentale ci focalizziamo troppo su farmaci e chirurgia che in alcuni casi nella maggior parte dei casi va bene però io dico sempre ai miei studenti di medicina è come se io comprassi una macchina nuova senza fare un piano di manutenzione cioè io non non so quando cambiare l'olio non cambio l'olio non cambio i freni non cambio le pastiche dei freni il copertone i filtri e guido la macchina no? come molti dicono a me non mi interessa niente io voglio vivere la mia vita cos'è meglio un anno da leone che cento da eh? cioè a me non mi interessa niente io voglio vivere la vita piena più o meno è come dire io mi sono comprato la 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 non rompermi le scatole io voglio guidarla senza fare nessun tipo di manutenzione lo sapete benissimo cosa succede intorno ai 12.000 km se non cambio l'olio 15.000 il motore si fonde giusto? occhio vecchio mi fonde il motore se non cambio i freni o i copertoni più gelellina la macchina perde 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 aderenza e va a sbattere se va a sbattere quando sono ai 40 all'ora faccio un danno più o meno grave se vado a sbattere in autostrada ai 120 il danno è molto più grave quindi più o meno questo è quello che succede no? le persone fumano bevono alcol mangiano male non fanno attività fisica non dormono bene così e in base alla loro genetica iniziano intorno ai 30 40 50 anni sempre sempre prima sempre prima esempio il tumore qui abbiamo un paio di gastroenterologi no? il tumore del colon era un tumore degli anziani non più sta aumentando in maniera esponenziale nei giovani in America ci sono persone sotto i 40 anni che iniziano a sviluppare cancro al colon il diabete era una malattia quando facevo medicina io il diabete era chiamato adult onset type diabetes cioè il diabete dell'anziano ci sono studi ci sono ragazzini che hanno il diabete a 20 anni a 15 anni c'è uno studio su New England che fa vedere che se tu prendi dei ragazzi che a 29 anni avevano il diabete tipo secondo quando dopo 11 anni a 40 il 61% ha ipertensione il 50% dislipidemia il 50% nefropatia diabetica cioè questi qua sono destinati alla dialisi e al trapianto renale il 50% neuropatia diabetica il 50% microangiopatia diabetica cioè questo è un disastro per il nostro sistema sanitario nazionale un disastro è insostenibile però detto questo quello che voglio dire è che nella nostra medicina occidentale che è tipicamente reattiva noi poniamo poca attenzione alla mente allo spirito alla nostra salute mentale non so perché cioè normalmente vai dallo psicologo perché hai dei problemi ma non è parte integrante di una visione della salute del benessere e voi dovete pensare che il cervello è come un muscolo no? voi adesso siete qui e vi ricordate quello che vi dico perché delle sinapsi nel vostro cervello si stanno riarrangiando no? per consolidare quello che vi dico in queste reti sinaptiche in cui si immagazzina queste informazioni quindi è importante a qualsiasi età spesso se tu dire ma io ormai sono anziano non voglio è troppo tardi non è vero noi dovremmo creare una società in cui invece di spendere adesso penso che il budget sanitario di tutte le regioni italiane dal 60 al 90% del budget regionale è speso in sanità dal 60 al 90% mi sembra che in Friuli siano sui due non mi ricordo bene se due o tre miliardi di euro all'anno il 60% finisce in sanità se noi risparmiassimo il 10 il 20% parliamo di centinaia di milioni di euro che potrebbero essere utilizzati per fare altre cose per esempio per creare delle reti sociali dei sistemi che aiutano per esempio i nostri anziani a mangiare noi i nostri anziani tutte le persone bambini giovani anziani a mangiare meglio a fare attività fisica a fare arte cultura in maniera che imparare nuove lingue imparare a scolpire a suonare uno strumento a qualsiasi età no? e ricordatevi che lo stesso principio con cui io imparo a suonare un pianoforte no? io imparo suonare un pianoforte se pensate uno inizia a strimpellare e poi riesce a fare non so un pezzo di Chopin di Beethoven in cui integra funzioni fine delle mani il cervello l'udito questo è perché abbiamo creato queste reti sinaptiche che ci permettono di fare questo ma questo avviene con tutto cioè se io praticamente spendo spendo buona parte della mia giornata a essere negativo a essere triste a essere depresso a pensare sempre male a essere egoista rafforzo delle reti sinaptiche che mi fanno diventare tale diventa la mia seconda natura se invece io dedico tempo della mia giornata consistente a essere positivo a essere altruista a essere più gioioso a vedere le cose il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto rafforzo delle reti sinaptiche per cui questo diventa una mia seconda natura giusto? perché quello che facciamo ripetutamente diventa quello che siamo e molte persone non riescono a fare lo sappiamo ma non riusciamo a elaborarlo e farlo diventare parte importante quindi tutte queste funzioni quindi l'intelligenza creativa emotiva artistica intuitiva il controllo mentale l'ottimismo l'ufficialità sono delle facoltà che noi possiamo esercitare se regolarmente come quando facciamo tennis yoga pianoforte impariamo una lingua lo continuiamo a esercitare no? perché come vi dicevo esistono queste reti sinaptiche vedete queste qua sono le sinapsi dei nostri neuroni che vengono regolarmente modificate da quello che facciamo da quello che facciamo regolarmente ok? che ci permettono di immagazzinare queste tracce memoniche l'altro importante concetto che secondo me sta sempre più mancando nella nostra società è fondamentalmente di nuovo la centralità delle amicizie della famiglia che sta sempre più scomparendo no? le famiglie dei centenari di questi bellaggi fondamentalmente sono queste famiglie in cui nella stessa casa vivono nonni a volte bisnonni figli nipoti nipotini e quindi si aiuta una vicenda e si supporta una vicenda la persona anziana non viene isolata in una casa di riposo ma c'ha intorno i figli i nipoti e creano questo ambiente che promuove salute e benessere ci sono diversi studi che dimostrano che vivere in un ambiente isolato aumenta il rischio di depressione di infiammazione di disfunzione immunitaria vivere invece in un ambiente familiarmente ricco in cui ci sono dei contatti sociali e sempre più ci stiamo inglesizzando faccio un esempio quando vivevo a Londra i miei amici mi dicevano io chiamavo più o meno mia madre tutti i giorni per dire come stai come va tutto bene questo quest'altro tu sei pazzo ma io chiamerò mia madre una volta ogni sei mesi e se devo andare a casa gli devo chiedere posso venire a casa no 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 non puoi venire a casa perché oggi gioco a bridge con i miei amici quindi non venire a casa prima del covid andai a Londra per meetings con un mio collega londinese andiamo in albergo mi fa domani vado a trovare i miei a cena vado a pranzo con i miei ah dico vivono a Londra sì sì abbiamo la casa a Londra tu sei a Londra e sei in albergo e non vivi con i tuoi no 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 ognuno ha la sua vita cioè questo è il tipo di società noi viviamo a Sidene in effetti è così nel senso che la società anglosassone è così sono molto introversi molto chiusi non hanno una rete a differenza di noi latino italiani che invece abbiamo a volte dicono ci dicono che siamo mammoni siamo eccessivi però in realtà quando una persona ha dei problemi tenete conto che in Australia esiste il ministero della salute e il ministero della salute mentale perché il 50% degli australiani nella loro vita soffrono di una malattia mentale secondo me in parte a parte l'alcolismo che è un problema grave in quel paese in tutti i paesi anglosassoni l'altro problema appunto è che non c'è questa unione familiare per cui quando una persona ha un problema e tutti noi abbiamo un problema nella vita se non c'hai vicino gli amici i familiari a chi ti rivolgi quindi io ritengo che sia fondamentale trovare la maniera di ricreare una rete sociale e le istruzioni devono essere fondamentali per riconnettere amici famiglia in una rete più più solidale che aiuta a sviluppare appunto l'arte dell'amicizia dell'amore dell'addizione dell'altruismo che sta sempre più scomparendo e qui vabbè adesso sono gli studi che vi dicevo lasciamo perdere perché siamo già in ritardissimo e infine secondo me dovremmo ritornare a riconsiderare l'importanza della filosofia degli studi della filosofia di un certo tipo di filosofia di un certo tipo di meditazione di approccio alla vita che è quello di non vivere la vita in maniera automatica con un'autopilota e stare sempre a pensare a domani devo fare questo se fra un anno non questo succede tutte queste paure ma cercare di vivere nel presente nel momento e sempre di meno invece viviamo o nel passato con rimorsi del passato o con le paure del futuro e non viviamo nel presente e in qualche maniera dovremo usare gli studi filosofici a me piace molto la filosofia e non solo a me pensate che Seneca che era uno degli uomini più ricchi ai tempi di Nerone praticamente era il suo precettore ma già prima era uno degli uomini più ricchi di Roma a un certo punto racconta a lui che si voleva togliere la vita dice decisi di non togliermi la vita solo perché sapevo che se questo fosse successo mio padre sarebbe morto di crepacuore quindi per non amareggiare mio padre per non danneggiare mio padre non mi tolsi la vita poi iniziò a studiare la filosofia la filosofia stoica e dice questo mi cambiò la vita fu una rinascita per me cioè capire fondamentalmente il contesto con cui un uomo vive cioè capire fondamentalmente alcuni tipi di filosofi questi qua sono alcuni dei miei favoriti no? Pitagora Eracrito vabbè il Buddha Protagora Democrito Socrate Lao Tse Platone certo Platone il Platone Socratico Epicuro Patangiali Lucrezio Seneca Marco Aurelio Giannobruno Spinoza sono delle persone che hanno fatto un approfondimento hanno comunque si sono posti dei problemi di come l'uomo può vivere in armonia con se stesso con la natura con il mondo e cercare di sfatare alcuni miti alcuni dogmi della paura dell'inferno del paradiso tante cose che sono un retaggio in parte culturale storico che serve anche per controllare i popoli invece questi filosofi si sono fatti dei grossi quesiti e hanno avuto una visione che aiuta a essere più bilanciati nella vita a vivere la vita con meno ansia con più fiducia con più di fluire con il flusso ad essere più in armonia con se stessi e più forti più fiduciosi e quindi vivere la vita più intensamente e più a pieno quindi vi consiglio se vi interessano comunque di provare a iniziare a leggere alcune delle cose di queste persone che sono dei grandi pensatori che hanno lasciato veramente dei pensieri importanti che ci possono aiutare per ribilanciare la nostra salute emozionale spirituale che è sempre meno centrale nella vita di tutti i giorni e infine questo è l'ultimo punto che abbiamo finito e la natura stiamo venendo a tutto il conto che stiamo venendo veramente a dura prova il pianeta iniziamo a toccare un pochettino i risultati di tantissimi anni di pratiche non proprio eccezionali e invece dobbiamo fondamentalmente essere molto più consapevoli innanzitutto ci sono degli studi bellissimi faccio vedere adesso un paio che fanno vedere che immergisi della natura ha un effetto salutare pazzesco voi tutti sapete che se uno si va a fare una passeggiata in un bosco in montagna ritorno regenerato se io invece vado a farmi una passeggiata nel centro di Londra perlomeno quando io vivo a Londra mi ricordo che il fine settimana andavo in giro per Londra tornavo a casa distrutto stavo meglio in ufficio lavorare 10 ore al giorno che il fine settimana nel centro di Londra di New York andare a fare un giro in bicicletta in montagna in mezzo ai boschi o sul lago a me rigenera non so a voi ma ci sono degli studi che dimostrano che in effetti questo è in effetto e poi naturalmente la salute voglio dire se uno dovesse mettere in pratica questi 11 precetti alla perfezione ma poi vive in un posto super inquinato in cui l'aria è tossica l'acqua è tossica il cibo è tossico perché i terreni sono inquinati non può vivere sano non può vivere bene quindi è fondamentale che noi riflettiamo su questo concetto e ci organizziamo e ci muoviamo per poter creare e devo dire che insomma il Trentino Alto Garda è fantastico abbiamo creato un ecosistema che veramente promuove la salute cioè tu arrivi in Rivea del Garda all'imbrazzo della scelta vado in bicicletta vado a fare free climbing vado in canoa vado a fare surf vado a fare cioè abbiamo creato un ecosistema eccezionale con la qualità dell'acqua e dell'aria insomma che non è perfetta ma comunque è nel giusto trend vedete questi qua sono gli studi che fanno vedere che per esempio andare a camminare nei boschi in merce della natura praticamente ha un effetto restaurativo nella capacità cognitiva anche dei bambini rispetto al vivere in una vita urbana e questo è un altro studio che fa vedere ad esempio che andare a fare quello che viene chiamato forest bathing cioè andare praticamente in queste foreste e quindi camminare nelle foreste ha un effetto nell'aumentare l'attività delle cellule NK sono le natural killer cioè sono queste cellule immunitarie che sono importanti per la prevenzione delle infezioni ma anche dei tumori stiamo scoprendo praticamente che ci sono queste nuove immunoterapie che bloccano alcuni recettori che impediscono le cellule immunitarie di uccidere di riconoscere e uccidere i nostri tumori e sembrerebbe praticamente che appunto in questo studio che è un piccolo studio che andrebbe replicato per l'amor di Dio però suggerisce che ha un effetto benefico e con questo ho finito e vi saluto ho un po' sforato però l'argomento veramente è difficile condensare tutti questi mi sentite sì allora grazie grazie professor professor Fontana abbiamo qualche minuto un quarto d'ora per qualche domanda se qualcuno ha qualche curiosità e vuol cogliere l'occasione ecco ah bene grazie si viene qua così è anche a favore di telecamera prego grazie mille veramente interessantissimo io volevo chiedere se cosa direbbe di aggiungere un tredicesimo raccomandazione e cioè di impegnarsi per un contesto di vita e di lavoro in cui aderire a tutte queste raccomandazioni sia facile e dove non ci siano barriere di dovuto a disuguaglianze sociali o di genere o collegato alla cittadinanza eccetera perché anche questi sono fattori che sono legati alla capacità di poter aderire a queste queste raccomandazioni e avere anche la possibilità a farlo altrimenti a volte poi di fronte alla apparente semplicità della raccomandazione perché non fai questo poi quando si confronta con la vita incasinata di tutti i giorni e diventa difficile e non si riesce a fare e questo non riuscire magari provoca frustrazione e stress e che è uno stress che a sua volta può essere un fattore pro-infiammatorio eccetera eccetera e come anche tutta una serie di altri fattori sociali possono provocare sono fattori pro-infiammatori quindi al di là dell'individuo c'è anche la società in cui si vive che deve essere un po' oggetto di cambiamento volevo un commento su questo assolutamente è un ottimo punto sono d'accordo è chiaro che come dicevo come ho provato a accennare che se noi riuscissimo per esempio a ridurre la spesa sanitaria che in questo momento è prevalentemente reattiva cioè la maggior parte delle patologie cardiovascolari che sono la principale di causa di spesa e di morte e di morbidità l'OMS dice che l'80% sono prevenibili i miei studi dicono che probabilmente il 90-95% sono prevenibili tumori OMS il 40% sono prevenibili secondo me è molto più alto 60-70 uno di quelli obesity related quelli più frequenti diabete tipo secondo è quasi totalmente prevenibile con gli stili di vita e questo comporta per esempio il 40% delle degenze in ospedale per nefropatia e poi dialisi tra pianto renale se non riuscissimo anche a tagliare del 10% il 20% non dico l'80% come dice l'OMS ma il 20% di riduzione di queste patologie direveremo una quantità di risorse pazzesche per fare esattamente quello che dici tu e quello che tu stai cercando di fare nel dipartimento di prevenzione dell'APSS di Trento quindi sono pienamente d'accordo però dobbiamo fare questo esercizio cioè dobbiamo convincere i nostri politici che se noi non insegniamo ai nostri cittadini a fare il tagliando della macchina regolare è chiaro che non ci saranno abbastanza carrozzerie e meccanici per riparare tutte le macchine che si avranno un incidente o che fonderanno il motore quindi il concetto di dire costruisco più carrozzerie e più autorimesse per riparare il danno del fatto che le persone non fanno il tagliando delle macchine secondo me è assurdo quindi io prima devo dire ok questi sono i tagliandi quindi risparmio drasticamente sulla sanità e tutti quei soldi li rinvesto in lavorare di meno perché se l'80% del budget regionale è legato alla sanità significa che io devo lavorare per produrre quei soldi per pagare quelle cure se io ho un taglio dei costi posso usare più tempo per me stesso per fare attività fisica stare con gli amici distribuire la ricchezza quindi fornire cibo migliore alle persone creare come l'alto garda in trentino delle infrastrutture per cui non solo i ricchi possono andare in piscina o possono andare ma ci sono piste ciclabili dappertutto sei d'accordo o non sei d'accordo ni ni però questo è il mio punto di vista poi possiamo discutere magari una volta in una sede secondo me questo è un inizio di un percorso non è la soluzione un'altra soluzione sarebbe rendere obbligatorio questi concetti dalla prima elementare cioè fossi io il ministro dell'istruzione direi sì c'è la matematica la grammatica la storia la geografia ma io metterei due ore alla settimana di queste materie dalla prima elementare seconda terza quarta quinta poi al liceo aumenti la complessità e alle medie e al liceo e all'università tutti i laureati non solo i medici nutrizionisti dovrebbero avere queste informazioni in maniera che diventa fondamentalmente una seconda natura come so fare so scrivere leggere fare so fare matematica questi concetti diventano parte integrante sono sicuro che riusciremo a spostare la gaussiana la curva di gaussiana verso un sistema più salutistico e quindi una riduzione dei costi quindi ci sono tante cose che andrebbero fatte però dobbiamo iniziare a farle non possiamo continuare a rincorrere un modello che causa la malattia come vi dicevo 50% di bambini campani obesi tu sai benissimo questo è un disastro perché questi qua quando avranno 50 anni avranno già una buona parte metà nefruttopia diabetica quindi magari a 60 anni dovranno fare la dialisi ma chi è che pagherà tutte queste dialisi ma chi spiegatemi chi non so cosa costa un letto di dialisi ma penso che saranno su 1000 euro al cioè ok prego non abbiamo parlato di acqua sì è importante avere acqua quanta lontano dai pasti non ci sono studi scientifici almeno che io conosca io penso che nelle persone sane senza malattie uno dovrebbe bere l'acqua quando ha sete se uno ha sete appena sete dovrebbe bere dell'acqua possibilmente acqua di fonte no naturale meglio se appunto le nostre acque di fonte trentine rispetto a un'acqua di un pozzo che è un'altra cosa importante che se uno guarda i dati dell'arpa e va a vedere in pianura padana alcune gione le acque superficiali e anche alcune acque profonde sono inquinate da tracce di erbicidi pesticidi e altre sostanze quindi la qualità dell'acqua è altrettanto importante tornando all'ambiente molte persone non si rendono conto che tipo ad esempio adesso in Veneto i FAS c'è tutto questo inquinamento del FAS a Brescia mi diceva una mia collega dell'Istituto di Superi Sanità che hanno scoperto poi i cittadini stessi che c'erano tracce di cromoese valente nell'acqua di Brescia e quindi per anni le persone si bevono delle piccole quantità di cromoese valente che sono il residuo di tanti anni di industria in Valcamonica di ottoni questo e quest'altro che sono scese a valle però per la quantità io penso che una persona sana che in una particolare patologia dovrebbe bere quando ha sete a causa della tipologia di pelle una persona non può prendere il sole o ne può prendere in maniera molto ridotta la vitamina D va comunque assunta anche all'estate e in che quantità 800.000 unità giornaliere sì e fare non so le 20.000 unità ogni mese la stanno usando io preferisco una cosa regolare nel senso che sai come dire io faccio una volta al mese un bagno di sole sì ma probabilmente io preferisco quando vivevo in nord Italia o in nord America prendevo tutti i giorni mille unità di vitamina D mille unità al giorno sì una goccia quindi sì una o due gocce i tempi lì in America c'erano queste pilloline con l'olio extravergine di oliva con mille unità va benissimo se non ti esponi al sole sì la puoi anche misurare cioè vai dal medico ti fai misurare la concentrazione plasmatica di vitamina D e sai se sei insufficiente o hai sufficienza o livelli ottimali sì io avrei un'altra domanda come si inserisce sulla base di vostri studi il buon funzionamento del sistema nervoso centrale sia come tema di prevenzione ma anche come tema di controllo del peso di cui stasera ho parlato ampiamente puoi elaborare un pochettino di più cosa intendi? è allora nel senso che ho seguito degli altri degli altri studi dove si verifica che con un eccessivo livello di cortisolo e quindi un'infiammazione cronica sistemica che poi coinvolge anche il sistema nervoso centrale quindi anche la capacità di tornare in omeostasi quindi in equilibrio che oggi è un problema importante per gli elevati livelli di stress che ci sono soprattutto nel post pandemia ecco volevo capire se negli studi che avete fatto si inserisce anche questo elemento rispetto agli elementi di prevenzione e di cura non per il peso ma chiaramente non ho avuto tempo lo stress cronico in cui viviamo l'ho accennato è un fattore di rischio cardiovascolare importante ha un effetto sul sistema immunitario sulla produzione di citochine pro-infiammatorie i depressi per esempio hanno un livello di infiammazione molto più alto ci sono decine se non centinaia di studi scientifici che lo dimostrano quindi non c'è nessun dubbio che lo stress cronico e quindi la stimolazione catecolaminergica e cortisolica hanno un effetto immunosoppressivo è un aumento nel fattore di rischio cardiovascolare ci sono degli studi animali che fanno vedere che lo stress cronico attraverso una via che si chiama AC5 praticamente accelera l'invecchiamento quindi è assolutamente importante ed è per quello che dicevo che appunto questi ultimi punti di cui discutevo quindi un approccio in parte è anche quello che diceva il collega cioè voglio dire se comunque uno ha degli orari pazzeschi di lavoro non riesce ad arrivare a fine mese non è che ha poi tanto tempo di fare filosofia ma anche quella persona lì voglio dire comunque se ha un approccio diverso può in qualche maniera tamponare perlomeno parzialmente i danni di una vita che in qualche maniera abbiamo creato un sistema sociale che va rivoluzionato cioè io sono convinto che abbiamo gli strumenti l'oggetto in passato abbiamo gli strumenti tecnologici e conoscitivi per disegnare un mondo fantastico perché rispetto a tantissimi anni fa adesso possiamo costruire edifici completamente efficienti dal punto di vista energetico e possiamo produrre quindi energia in eccesso un conto avere una casa che è un collo a brodo è chiaro che non ce la fai soltanto col fotovoltaico a riscaldarla ma se hai una casa in classe A più non hai bisogno anzi produci energia quindi abbiamo tutte le conoscenze per drasticamente ridurre le malattie quindi ridurre i costi sanitari e usare queste risorse per malattie genetiche o persone che magari sono sfortunate perché la biologia non è una scienza esatta è come con la macchina anche se tu la tieni perfettamente la sfortuna esiste ma se tu guidi una macchina che non è mantenuta aiuti moltissimo la sfortuna quindi bisogna ripensare un modello che dia più tempo alle persone a dedicare alla propria crescita interiore attività artistiche attività sociali di amicizia che quindi riducono quelle componenti di stress che attivano il sistema simpatico e inibiscono il parassimpatico che sono due importanti organi di controllo di tantissime ghiandoli di tantissime funzioni assolutamente grazie volevo chiedere gli integratori possono aiutarci a rimanere in salute gli integratori se c'è una indicazione medica cioè se un medico fa una diagnosi una deficienza di alcuni vitamini o di alcune hanno un'efficacia ma secondo me di per sé l'idea che io bevo fumo mangio quello che voglio e poi prendo gli integratori e con questo sono a posto secondo me no funziona quindi a parte la vitamina D come dicevo che se uno non può esporsi al sole o durante l'inverno in Trentino uno non si può esporre al sole a petto nudo per un quarto d'ora venti minuti e non c'è neanche abbastanza potenza del sole perché per l'attitudine e l'inclinazione non è abbastanza forte a parte la vitamina D in persone normali sane io normalmente non prescrivo nessun integratore se invece uno ha una patologia o una deficienza particolare di alcuni vitamine o altri minerali allora certo stavo pensando ad esempio alle proteine dopo una certa età per l'aumento della massa muscolare il mantenimento della massa muscolare ripeto se uno ha una dieta bilanciata e mangia cere integrali legumi un po' di pesce magari dei latticini tipo dello yogurt magro non può andare in carenza proteica cioè questa fissa che le proteine sono la soluzione queste diete iperproteiche chetogeniche nella prevenzione delle osteoporosi quello che stiamo studiando perlomeno nei modelli animali che hanno l'effetto contrario cioè praticamente le diete iperproteiche accelano l'invecchiamento e potenziano il rischio di cancro perché vanno a attivare queste vie di segnale tipo la IGF-1 entor pathway che promuovono senescenza e promuovono l'invecchiamento quindi uno deve consumare il giusto apporto proteico che al giorno d'oggi si agira intorno ai 0,8 0,9 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo quindi è meno di un grammo se una persona pesa 60 kg dovrebbe consumare 60 grammi al giorno quindi diciamo 54 56 grammi al giorno per una persona di 60 kg sono più che sufficienti quindi tutto questo eccesso proteico probabilmente ha soltanto un effetto nel promuovere invecchiamento e cancro beh ma se se ti fai la mattina la spremuta di arancio mangi del cavolo dei crauti usi il limone come condimento per aumentare la biodisponibilità di ferro selenio e altre cose hai in eccesso di vitamina C è chiaro che se non consumi i cibi ricchi di vitamina C allora poi ha un senso ma una persona che ha accesso a dei limoni del cavolo del crauti delle arance non ha nessuna carenza di vitamina C magari crauti senza il cotechino dentro eh beh certo io ho detto crauti non ho detto il cotechino crauti crudi certo ecco lei volevo fare la domanda ma lei ha già risposto perché appunto era una diciamo un chiarimento un chiarimento sulla sulla moda adesso ci sono tutti questi cibi per proteici cioè veramente una moda anche tutti no non tutti tanti nutrizionisti subito dieta per proteica e continuo e parecchie persone ormai hanno diciamo questa adottano invece che come magari uno start per riavviare il metabolismo diventa una mania quindi lei ha già risposto quindi grazie per tutto il suo intervento grazie bene un'altra domanda l'ultimissima l'ultima devo chiedere cosa pensa dell'integrazione di omega 3 può avere un senso medico in alcuni casi però è meglio consumare il pesce cioè io preferisco mangiare il pesce che mangiare un supplemento di omega 3 però se una persona non può mangiare il pesce o ne ha bisogno certo ha una sua ha una sua funzione prego perfetto allora grazie buonasera a tutti grazie di nuovo grazie grazie